cari amiche cari amici buonasera buonasera dalla nostra trasmissione la domenica bianco rossa che è giunta la puntata numero 3 lo sapete ormai è un'occasione per poter discutere insieme della nostra comune passione della valpe e quest'oggi questa sera abbiamo un campione della formazione del valpellice bulldog spirito reale andrea basrau e benvenuto andrea mi fa un sacco piacere averti qui mi fa un sacco piacere anche perché vuol dire che sei tornato sul ghiaccio e dopo una prima primissima parte di stagione condizionato da un piccolo infortunio rimediato nell'amichevole quindi sei tornato le persone che ti hanno sostituito l'hanno fatta in maniera più che degna perché sia alessio boaglio che fu poco lasso sono stati molto molto bravi tuttavia aveva una gran voglia di tornare di tornare a fare il tuo mestiere più più che una grande voglia è stato un periodo veramente complesso sotto diversi aspetti è stato difficile però sono contentissimo sia per boaglio che per il pubo perché hanno veramente dimostrato che se vuoi puoi ecco e sono contentissimo per loro però dal punto mio è stato tosto adesso sono tornato veramente tanta voglia di rifarmi di giocare di vincere soprattutto l'anno scorso hai fatto una sorta di record perché io non ricordo ne ho visti tanti dei campionati di hockey un portiere che ha disputato tutti i minuti della stagione senza essere mai sostituito quest'anno hai cominciato già riposandoti quindi adesso vorrei andare avanti e forse forse è stato quello un po l'aiuto di queste partite che stando fermo essendo un po' abituato ma no scherzo cioè alla fine è stato strano perché io ero partito tutto convinto di iniziare la mia stagione carico gasato alla prima partita mi sono ritrovato così di punto in bianco a dover gestire questo infortunio però succede fa parte dello sport è un atleta deve preventivare che possono succedere queste cose deve saperle gestire in questo momento ti senti all'ottanta per cento sì sì non sono ancora al cento per cento assolutamente però quello che ho visto sul ghiaccio mi è piaciuto abbastanza e un 80 per cento secondo me abbastanza ragionevole io ti ringrazio anche perché andremo a commentare siamo nel giorno dopo di una partita difficile una sconfitta dolorosa forse la più dolorosa di questa stagione quella contro il bressanone però abbiamo anche da commentare un precedente risultato favorevole sono due 4 a 1 no 4 1 favorevole contro il como 4 1 sfavorevole contro il bressanone e andremo poi a vedere che sono differenze o similitudine tra le due partite sì sono state due partite molto impegnative noi sapevamo che erano molto determinanti entrambi le partite abbiamo giocato bene alcune cose non bene male ne riparleremo sicuramente certamente siamo qua per questo ma cominciamo con un piccolo riepilogo e quindi utilizziamo il nostro maxi schermo per vedere i risultati della quinta e della sesta giornata quinta giornata disputata giovedì falcons bressanone caldaro 0 a 5 dobbiaco a piano 1 a 6 feltre ghiaccio pergine 4 a 5 gara interessante perché il pergine è stato avanti poi il feltre ha recuperato aveva anche trovato del pareggio non convalidato valdifiemme alleghe 0 a 4 e poi appunto la nostra partita valpellice bulldog su spirito reale contro il como 4 a 1 tutte vittorie in trasferta come vediamo in questa giornata tranne quella tranne la nostra il como non è riuscito a vincere in questa giornata c'è qualche risultato che ti colpisce bass ma sincero non basta abbastanza tutto in linea con quello che è il campionato di adesso nel senso risultati abbastanza a me colpisce un po la vittoria dell'alleghe 4 a 0 a cavalese l'alleghe sicuramente non è la squadra dell'anno scorso no sicuramente è tutta un'altra squadra ma io mi aspetto che sia una buona squadra cioè da quello che hanno dimostrato che vogliono fare quest'anno c'è un chiaro intento che vogliono cambiare qualcosa rispettare lo scorso e si vede e gli auguro appunto che le squadroni fanno un buon campionato la sesta giornata invece ha visto il pergine imporsi in casa sul como ma 7 a 5 a tutti i gol stranieri nella squadra di da ring tra cui un uovo straniero un serbo che è arrivato un ragazzo molto giovane 2002 che nazionale serbo e da rimi diceva che gliel'ha segnalato stefan ilic vecchia conoscenza dell'hockey torrese in ogni caso il como prova a rilanciarsi caldaro varese 3 a 2 questo un gran bel big match una partita molto combattuta caldaro avanti 3 a 0 il varese prova a rientrare ti aspettavi una vittoria del caldaro che continua ad andare avanti a punteggio pieno vedremo dopo la classifica sincero no pensavo più che varese riuscisse a spuntarla però comunque caldaro una grandissima squadra assolutamente però sulla carta avrei detto varese l'anno scorso il varese aveva uno sniper ovvero franchini che quest'anno era andato in alps almerano e adesso c'è la notizia che anzi ha già giocato ieri ovvero si è accordato con l'ares sport in ihl division one quindi serie c fatto due scalini indietro indubbiamente molto ambizioso il progetto dell'ares sport si molto molto ambizioso sicuro stanno veramente investendo tantissimo ed è una cosa politica per tutti noi nel senso che anche a livello mediatico avere una squadra che crea così tanti interesse sembra una cosa positiva poi ovvio che tutti noi vogliamo battere quelle squadre non immagino il campionato di serie c tutti i punti da batterli però è bella come squadra ne parleremo ma in effetti ieri sera a chi aveva anzi chiedo scusa amadesimo il chiavenna ha lottato e finito due a quattro quindi non c'è stato un divario enorme anche vero che in acciac che è un altro dei giocatori dell'ares sport questa squadra ostana l'ex fanano per capirci era squalificato andiamo avanti appiano valdifiemme 3 a 4 all'overtime quindi il valdifiemme che aveva perso in casa 4 a 0 con l'alleghe si è rifatta andando a vincere ad appiano all'overtime valdifiemme una bella squadra l'avete incontrata sicuramente mi ha messo in difficoltà tu eri presente hai fatto il backup sì sì ero presente e alleghe dobiaco la prossima avversaria il dobiaco ha perso 3 a 7 ad alleghe non dobbiamo assolutamente sottovalutare la squadra ma ne parleremo tra poco e infine la nostra partita ovviamente valpellice bulldogs spirito reale falcos bressanone 1 a 4 andiamo a leggere la classifica dopo la sesta giornata il caldaro ea in testa a punteggio pieno 6 partite 18 punti seguono il persino a 14 una partita in meno la piano a 12 anche una partita in meno sempre a 5 partite c'è anche il varese ma 11 punti il valdifiemme è appaiato il varese 11 punti una partita in più alleghe 10 del tre ghiaccio 6 come il bressanone che ha scavalcato ieri valpellice quattro punti in sette partite ne abbiamo uno in più di tutte perché abbiamo anticipato proprio quella con il valdifiemme dobiaco dopo sei gare a un solo punto como cinque gare 0 punti una classifica che ci vede in questo momento appena fuori le otto sappiamo che il risultato l'obiettivo è quello di entrare nelle prime otto che significa per entrare nei playoff è vero campionato lungo che sarà la divisione ma comunque in ogni caso è la gara in fondo e sta anche abbastanza sgranando la classifica bassa no perché vediamo le prime sei hanno già più quattro rispetto alle ultime cinque sì sì si sta delineando abbastanza ma le squadre dietro sono guerrite come quelli davanti tutti penso che vogliamo andare i playoff nessuno penso voglia stare fuori quindi sarà una bella lotta sia per le squadre più davanti che per quelle nelle retrovie ecco d'altro canto l'abbiamo visto ieri sera ma poi lo vedremo anche nelle immagini il bressanone è arrivato qua con una sola vittoria aveva un punto meno di noi effettivamente di risale a bressanone io ritengo di poter dire obiettivamente ha meritato di vincere si si ha meritato di vincere ecco c'è poco da dire noi abbiamo meritato in alcune fasi non non abbiamo fatto il nostro gioco e purtroppo si paga però il campionato è lungo abbiamo sappiamo dove vogliamo arrivare quindi non non ci demoralizziamo ecco abbiamo due partite da vedere e cominciamo dunque con il primo incontro quello di giovedì sera tra valpellice bultro spirito reale e come tutti presenti la caciva al pellice bulldox spirito reale si presenta al primo dei due appuntamenti casalinghi assolutamente da vincere con le nuove maglie al gran completo esordio stagionale per il portiere andrea basrauli che sarà uno dei grandi protagonisti soprattutto nei momenti meno facili del match l'avversario è loco e como unica squadra ancora zero punti ha perso lo spauracchio americano chase harwell che ha smesso di giocare e lamenta con assenza e quindi schiera solo due linee con qualche rincalzo dino grossi plasma una prima linea d'attacco cordine philippo salvai mondomeren massimo darin un lungo passato alla valpe sa di dover cominciare forte perché alla lunga il divario numerico favorirà i bianco rossi il primo tempo non è semplice per la valpe in avanti non si riesce a costruire e si è spesso in inferiorità numerica per penalità assolutamente evitabili per fortuna basrauli è subito concentrato il powerplay del como si basa molto sulla leadership del difensore russo dmitry vozikov e qui prova anche la conclusione della distanza nella ripresa cambia tutto la valpe evita i falli e passa alla prima vera occasione disco recuperato in balaustra da mondomeren cordin da dietro porta serve salvai che accarezza il disco e fulmina tesini con un tiro incrociato 1 a 0 al 24 17 rivediamo nel dietro porta la bella azione della prima linea lavoro passaggio tiro terza resta stagionale del capitano magicamente tutto è diventato semplice federico cordin entra nel terzo come una lama calda nel burro difensore saltato finta sul portiere raddoppia il minuto 26 47 la curva filatoio capisce che è il momento decisivo e quindi sostiene i ragazzi in modo caloroso di nuovo la prima linea sul ghiaccio cordini inizia l'azione mondomeren porta dentro il disco triangolazione con filippo salvai e facile 3 a 0 al 29 e 36 per matteo è il primo gol del torneo sommato salvai in azione solitaria gli arbitri ravvisano un giusto fuorigioco ma l'attaccante va al tiro una frazione di seconda dopo il fischio lucarino del como volò dimir stanco carica il 34 della valpa e per vendicare il presunto sgarbo ne nasce un confronto che finisce con 5 minuti di penalità a entrambi su un ingaggio frescura commette un'ingenuità e regala il disco a filippo salvai tocco dentro per cordin che mette sedere tesini e trova addirittura il 4 a 0 al 31 e 02 la valpe ha deciso l'incontro con quattro rete in meno di 7 minuti e la traversa nega il quinto nel terzo tempo i torresi arretrano un po troppo il como prova con orgoglio a riportarsi sotto guaita serve ambrosoli che ci prova due volte ma basrawi vuole a tutti i costi lo shutout e lo meriterebbe non è d'accordo il russo vosovic che giganteggia in difesa a forte dei suoi trascorsi in vhl e si rilancia in attacco alla fine se il como segna il gol della bandiera è tutto merito di una sua azione personale apprezziamo da dietro porta la sua finta su andrea basrawi finisce così i lariani restano a zero punti e ora confidano su un nuovo acquisto nazionale serbo per dare una svolta al loro campionato la caciva al pellice bulldogs spirito reale trova invece la sua prima vittoria e sala l'ottavo posto provvisorio a quattro punti questa squadra lotta e combatte meriterebbe sicuramente un pubblico più numeroso quando gira c'è da divertirsi abbiamo dimagosovic difensore numero 3 del como miglior giocatore della squadra valeriana in questa partita giocata al costo morenini per il fedice dimagosovic best player in como so you are get used to a big level but what do you think about italian hockey player I think your question is good I think Italy league is best very active hockey and very fighting hockey I like you play with other guys from Ukraine sport is good sport make friends Roman and Valodia my friends only sport I sportsman they sportsman only sport I happy and like what I player with him I think no problem we gaming for game season six months I I think we we can victory I think our coach speak our team different and forward big work and good results I think it's good results thank you very much thank you nice to meet you nice to meet for the best for you yeah thank you thank you thank you Federico Cordin in rientro da un infortunio fortunato due gol e due assist tra l'altro sento la differenza nel secondo tempo con l'intera play marina si intanto son contento che sono riuscito ad entrare abbastanza presto non era così grave come sembrava è stata una partita strana oggi perché siamo partiti i primi cinque minuti forte bene abbiamo fatti cambi corti li abbiamo messi sotto poi ci siamo forse un po' addormentati e non si sono riusciti a sbloccarla nel primo tempo fortunatamente neanche loro poi nel secondo effettivamente diciamo che girava tutto bene dalla nostra parte si riusciti a creare quattro bei gol uno un po' un po' un po' così però di fortuna gli altri tre sono stati creati da situazioni che abbiamo anche provato dal forcep o vabbè uno è stata un'opzione individuale però comunque diciamo da un'uscita di zona quindi bello e sono entrati i dischi buono il terzo tempo invece forse pensavano già di aver vinto sicuramente un po' di stanchezza nonostante avevano quattro linee loro hanno comunque spinto bene il terzo tempo abbiamo tenuto peccato per l'ultimo gol alla fine però comunque era importante fare tre punti dopo cinque sconfitte o mezzo dopo solo un punto dopo cinque partite sia per il morale che per tutto anche perché per il divertimento diciamo perché comunque poi quando vinci ti diverti peccato giusto per l'ultimo gol anche per Pasraoui che avrebbe meritato lo shutout lui era dell'esordio stagionale anche lui era riuscita l'unico e anche lui purtroppo si era fatto male nell'amichevole che abbiamo fatto tra di noi tra l'altro quindi una distorsione nella caviglia e peccato sì davvero peccato perché ha fatto un'ottima partita non gli abbiamo effettivamente lasciato occasioni clamorose però comunque hanno tirato hanno anche avuto abbiamo preso noi troppi falli anche alcuni totalmente da evitare però ci sta fa parte del gioco lui ci ha tenuto bene in partita ha fatto tutte le sue parate fatte bene peccato sì per l'ultimo gol come hai detto te si meritava si meritava uno shutout comunque era contento alla fine vince la squadra quindi va bene così si scherzava sul fatto che fino adesso una volta aveva raccolto parte nella gara di Varese ma comunque tante congratulazioni e pochissimi punti questa sera forse prima e terzo tempo le congratulazioni non le abbiamo meritate tuttavia i tre punti alla fine sono arrivati sono tre punti pesantissimi sì sì come ho detto ci servivano questi tre punti per il morale per la classifica per il pubblico per tutto forse non è stata la più bella partita che abbiamo giocato probabilmente sì magari una parte del secondo tempo secondo me è stata molto ordinata molto pulita quando abbiamo fatto i gol perché tra l'altro li abbiamo fatti tutti abbastanza di seguito poi è sbagliato però mentalmente quando sei forse 4 a 0 ti tranquillizzo un po' e forse noi ci siamo un po' tranquillizzati e dopo magari provavamo cose troppo difficili non eravamo non eravamo tutti sulla stessa pagina ci sono cose da migliorare ancora ovviamente però ci sono cose buone partiamo da questa e speriamo sabato di nuovo di fare una buona partita e portare altri tre punti un'ultima battuta però ci tengo a chiedertela riguardo la conformazione di questa linea secondo me è molto ben assortita sì no no diciamo che l'anno scorso quando abbiamo finito io Marco e Filippo abbiamo avuto secondo me un'ottima parte di stagione segnavamo segnavamo tanto tutti e tre quest'anno Matteo è stato fuori anche lui all'inizio qualche partita io e Filippo siamo rimasti insieme sicuramente Matteo è uno che a noi ci serve perché fisicamente è il doppio siamo io e lui messi insieme quindi anche negli angoli soprattutto per esempio sul primo gol ha fatto un ottimo lavoro cosa che sia io che Filippo ovviamente facciamo un po' fatica a farlo quando c'è da lottare fisicamente quindi secondo me come hai detto tu diciamo che ognuno forse riesce a completare un po' l'altro sì secondo me anche diciamo che stasera mi sono divertito comunque perché riusciamo a far girare bene il disco abbiamo giocato veramente poco in zona di difesa noi come linea tanto in attacco quattro gol penso che diciamo speriamo di solungarlo nelle prossime partite allora beh quando si vince 4-1 è sempre una bella soddisfazione un grandissimo secondo tempo quattro reti realizzate si sono visti degli sprazi di bel gioco prima e dopo non abbiamo dato il meglio di noi comunque anche qui il primo tempo e il terzo tempo non sono stati brillantissimi sì abbiamo avuto alti e bassi di prestazione se vuoi vincere le partite è una cosa che purtroppo non può succedere nel senso che devi essere a un livello abbastanza costante per tutta la partita però alla fine l'abbiamo portato a casa che è una cosa importante qualche errore qualche ottimazione soprattutto nel secondo tempo abbiamo visto veramente delle belle azioni delle belle giocate e lì è il gioco che possiamo fare un gioco di sacrificio un gioco di squadra e paga si parlava con Fefe Cordin nell'intervista del dopo partita di quanto questa prima linea d'attacco possa essere efficace proprio perché è ben amalgamata c'è Matteo Mondomarenti che lavora c'è Fefe Cordin che crea e c'è Filippo che è un equilibratore quindi potrebbe essere veramente sì devo dire mi è piaciuta molto la loro linea anche ieri e nelle altre partite anche in allenamento mi piacciono sono un bel trio c'è stata anche una bella prestazione del portiere che meritava lo shutout peccato per quella sbavatura finale da parte del nostro pacchetto difensivo che di fatto ha premesso un gol un po' troppo facile a Vosovi che questo russo che comunque non è niente male grazie mille innanzitutto sì purtroppo appunto c'è stata questa sbavatura che come portiere non mi è piaciuta però nel senso una cosa mia e sincero in quel momento io pensavo solo alla vittoria della squadra quindi il 4-1 ce l'avevamo e per me era quello l'importante a livello mio personale ovvio che volevo concludere in un altro modo però è stata una bella partita io ritornavo dopo non so quanto tempo quindi ero contentissimo mi piacerebbe vedere durante l'incontro tu sei stato molto impegnato hai fatto diverse parate molto spesso ti sei trovato in una situazione un po' particolare vediamo con i giocatori del Como che provavano a schermarti specialmente in power play effettivamente è vecchio quanto loco in questo modo di giocare poi da ring in queste cose è molto bravo la schermatura del portiere per impedirgli di vedere tu come fai? anche perché tu non puoi intervenire con il bastone altrimenti riesco di fare fallo ma ci sono diversi modi di giocarlo diversi punti tecnici però tendenzialmente o si cerca di guardare sopra l'uomo o ai lati però l'importante è vedere il disco partire perché se tu vedi il disco partire hai una possibilità di prendere quel disco se non vedi partire devi andare a intuito ma ecco si cerca di escludere sempre questa opzione siamo forse a volte un po' troppo garantuomini un po' troppo gentili in difesa sì decisamente quello è una cosa su cui dobbiamo lavorare tante volte appunto loro vengono nella nostra casa davanti alla porta e appunto si mettono lì vogliono giocare davanti noi dobbiamo fargli capire che lì non si gioca però a questo punto dobbiamo entrare come dire nell'argomento più caldo perché è quello della sconfitta di ieri sera e vediamo dunque gli highlights e le interviste relative a Valpe Bressanone a 48 ore di distanza dal match vinto contro il Como il valpellice bulldog spirito reale torna sul ghiaccio amico per affrontare i Falcons di Bressanone altra compagine in lotta nella parte bassa della graduatoria gli uomini di Alexander Schlisser hanno sin qui raccolto meno di quanto attendessero ma sono carichi a mille per fare risultati in Piemonte Redler e Maunula sono due buoni stranieri ma è tutto l'organico essere pericoloso il Bressanone la mette subito sul ritmo forte del dinamismo dei suoi elementi giovani e giovanissimi Basrawi deve intervenire più volte ecco qui un'altra azione dei Falcons conclusa con una pinzata del portiere bianco-rosso gradatamente la Valpe prende le misure ma l'inefficacia del power play purtroppo per i torresi impedisce di sfruttare le occasioni in superiorità la ripresa è la frazione migliore per la formazione allenata da Dino Grossi addirittura al minuto 31 e 12 riesce a passare in vantaggio sfruttando la buona vena della seconda linea Long porta dentro il disco e dopo un paio di finte impegna severamente Oberhammer Tommaso Salvai tiene vivo il disco Fornasetti lo lavora per Christian Long che con un gran movimento di rovescio batte il portiere e porta avanti i suoi vi vediamo alla dietroporta il bellissimo spunto del numero 29 che illude la squadra e il pubblico di Torrepellice il Bressanone continua col suo gran pattinaggio ma la Valpe sembra poter controllare e colpire ancora la terza frazione invece si trasforma in un monologo dei rosso-blu alto a tesini batti e ribatti il 19enne Jakob Tum serve l'altro terzino al 18enne Liam Nardone che sorprende Basraoui a mezz'altezza 1-1 al 47-31 trovato il pareggio i brissinesi alzano ancora il ritmo e i Bulldogs vanno in affanno un errore di ingenuità in impostazione favorito dalla sfortunata presenza di un casco vagante e sfruttato dai Falcons attraverso la splendida conclusione di Zande Giacomo Mistrochione 19 anni vantaggio esterno al 52-12 sulla Valpe cala la notte Mattia Covelli talentino nato a Brunico nel novembre 2004 mette al sicuro il risultato e realizza la sua personale doppietta che lo porta a quota 4 più 2 assist nella classifica dei marcatori i Bulldogs masticano Amaro gran festa per i ragazzini terribili del Bressanone che hanno fatto la differenza Mattia Covelli una partita lottata dal primo sessentesimo nel terzo tempo il Bressanone ha fatto la differenza sì abbiamo iniziato bene secondo me abbiamo ricevuto un paio di falli stupidi ma alla fine siamo riusciti a vincere la partita è quello che conta ma avete preparata comunque sul ritmo questa partita perché questa è una delle caratteristiche della vostra squadra sì esatto perché abbiamo la partita giovedì non è andata come abbiamo voluto per quello ci siamo messi come obiettivo di iniziare bene la partita e finirla bene nel terzo tempo che cosa è cambiato? forse erano le gambe giovane che abbiamo è lottata gente giovane che lotta forse ha fatto quello da differenza ma abbiamo lottato e giocato bene devo dire che la classifica prima di questa sera non vi rendeva distizia tre soli punti e una sola vittoria adesso comincia a essere più interessante sì esatto abbiamo fatto tante partite buone ma non abbiamo mai riuscito a prendere punti della partita e siamo contenti che ce l'abbiamo fatto qua a Valparice Davide Segatel una partita strana lottata comunque fin dal primo minuto il Bressanone l'ha messa sul ritmo voi avete ribattuto colpo su colpo nel secondo tempo siete andati in vantaggio poi nel terzo invece siete crollati cosa è successo? è stato un po' di un calo della squadra ci siamo persi siamo andati un po' nel pallone e quindi gli altri non hanno approfittato facendo gol e ci hanno mandato ancora più nel pallone e da lì è stata buttata la partita voi siete abituati a pattinare molto a pattinare anche più degli avversari solitamente questa è una delle vostre caratteristiche forse questa sera il Bressanone vi ha battuto anche come dire su questa vostra caratteristica sì sì anche loro una squadra giovane quindi si giocavano la partita sul pattinaggio loro erano più in forma hanno pattinato di più e magari ci hanno creduto di più verso la fine e quindi questo è stato decisivo e ci ha fatto perdere la partita la vostra linea è una linea che ha dei compiti di check se direbbe secondo me quantomeno per due tempi l'avete fatto molto bene sei soddisfatto della prova della tua linea togliamo l'ultimo tempo che è in giudizio sì sono abbastanza soddisfatto i primi due tempi il terzo andando nel pallone di squadra anche noi abbiamo calato il ritmo e questo è stato un danno per la squadra la prossima partita contro il Dobbiaco un'altra delle formazioni con cui Valpellece e Bulldog spirito reale si giocherà in prospettiva un posto nei playoff che partita ti aspetti? è una partita importantissima quindi dobbiamo spingere dal primo minuto e cercare di non dargli spazi a loro di giocare se riusciamo a farlo dal primo minuto penso che possiamo vincerla tranquillamente con le nostre capacità ecco con l'intervista a Davide Segatel si chiude questo servizio con Davide che è stato premiato in qualche modo per dire effettivamente c'è qualcosa che non ha funzionato nei primi blocchi la terza linea ha lottato ha combattuto ci ha provato e quindi in qualche modo è stato dato il premio a lui niente male Mattia Covelli che è uno di questi giovani che forse addirittura ha giocato meglio degli stranieri di Bersano si sono rimasto impressionato fin subito dai primi cambi dalla velocità che avevano quindi i giovani ecco davano il loro manforte in questa cosa io me li ricordavo molto più lenti l'anno scorso cioè non a quell'intensità sicura erano già una squadra giovane veloce che lottava simile alla nostra ma ieri sera veramente o noi eravamo troppo lenti o loro andavano come dei treli sono tanti giocatori giovanissimi che ad esempio il nostro Luciano Frasca conosce molto bene perché in quanto attrezzista delle nazionali giovanili li ho incontrati spesso e effettivamente una delle cose che ieri sera mi hanno colpito di più è che il Bressanone di fatto ci ha messo un po' sotto da un punto di vista proprio del tipo di gioco che ama la Valpe cioè il dinamismo la velocità il patinaggio invece alla fine specialmente nel terzo tempo perché al terzo tempo diciamoci la verità 15 tiri a 2 è stato veramente impegnativo no? sì il terzo tempo veramente è il momento in cui non abbiamo più fatto il nostro gioco e non ci siamo spenti abbiamo perso di lucidità che è il momento più cruciale perché su un 1-0 una partita così tirata devi cercare di non prendere gol o di limitare e poi se c'è l'opportunità andare a giocare o non avere paura però lì proprio degli errori gravi ti faccio una domanda un po' particolare nella lettura di questi due incontri si possono avere due approcci diversi leggendo le due partite se vogliamo essere ottimisti possiamo dire che abbiamo vinto la prima partita anche largamente e nella seconda eravamo 1-0 a favore fino al 47 quindi di fatto abbiamo buttato via tre punti grazie in conseguenza di un terzo tempo deficitario orribile l'altra lettura è abbiamo giocato bene perché anche ieri sera abbiamo giocato bene i due secondi tempi mentre il primo e il terzo tempo li abbiamo giocati maluccio o male sia col cover che il Bressanone il cuore delle due si avvicina di più cioè abbiamo buttato via tre punti con un terzo tempo molto brutto oppure abbiamo giocato bene due secondi tempi e nel primo caso ci ha fruttato la vittoria nel secondo è una bella domanda ma abbastanza entrambe possono nel senso è difficile scegliere un'opzione tra le due perché i punti alla fine li abbiamo persi in generale una partita purtroppo è fatta di tanti tre periodi quindi è difficile da dire però effettivamente la cosa che è stata un po' sorprendente è che in entrambe le situazioni questo lo possiamo dire siamo andati un po' in difficoltà nel terzo tempo cosa che solitamente nel Valpaese Bulldogs non è frequente perché nel terzo tempo anzi la vostra gioventù il vostro dinamismo viene sempre fuori alla grande anche contro il Como è vero che eravate 4 a 0 quindi può anche darsi che psicologicamente potevi arretrare di più potevi lasciare il gioco all'avversario però anche contro il Como obiettivamente nel terzo tempo abbiamo sofferto un po' troppo e ti sei dovuto intervenire tante volte sì quello è innegabile il terzo tempo di entrambe le partite è stata una cosa da rivedere perché abbiamo abbassato il nostro gioco e non abbiamo ottenuto il nostro livello che è una cosa fondamentale soprattutto nel terzo tempo adesso guardiamo un'altra schermata quella del prossimo turno prossimo turno che ci vedrà di scena in casa di nuovo sabato 21 alla Spirito Reale Arena a Cotta Morandini contro il Dobbiaco e gli Ice Bears e gli Orsi Polari una formazione che conoscete molto bene che avete incontrato in una famosa finale di HL Division One che avete ritrovato l'anno scorso tra l'altro vediamo questo signore si chiama Hector Mapul messicano ed è anche in questa stagione il top scorer del Dobbiaco ecco mentre questo è Michael Purdeller che è il nuovo acquisto principale della formazione altoatesina che arriva dal Bressanone ed è un giocatore che l'anno scorso nel Bressanone molto spesso ci ha fatto tanti gol non c'è più Adam Capannelli che si è aggregato in Alps al Vipiteno sta continuando a fare il suo lavoro e a segnare ma oltre ai gol Capannelli è un giocatore che faceva anche tanto lavoro forse era veramente la spalla ideale di Mahul che invece è un finalizzatore c'è un nuovo acquisto il lettone Christos Bormanis che è appunto il secondo straniero del Dobbiaco onestamente è un oggetto un po' misterioso giocava in Polonia l'anno scorso e lo vedremo sicuramente all'opera e poi che sono i soldi giocatori del Bressanone a partire da Patrick Rizzo ex Valter quindi una squadra forse che non ha nella gioventù del Bressanone la sua caratteristica principale forse ha più esperienza forse ha un ritmo più basso come vedi questa partita sarà veramente una lotta per noi perché noi vogliamo rifarci credo tutti vogliamo portare dei punti a casa da questa partita e loro appunto come hai detto tu sono una squadra più di esperienza meno dinamica poi dobbiamo vedere magari è cambiato qualcosa però sicuro sarà veramente una gran notta ma siamo pronti e lavoreremo duramente questa settimana bisogna assolutamente trovare anche le giuste le chimie visto che comunque siamo al completo finalmente non ci sono infortuni anche nelle situazioni di powerplay che comunque possono far la differenza infatti anche ieri sera nel primo tempo avete avuto due occasioni di powerplay se entrava il gol lì effettivamente e non siamo riusciti a costruire gran cosa no sul powerplay ci stiamo ancora lavorando c'è da migliorare si vede una cosa innegabile però vedo delle buone cose nel allenamento è questione di tempo purtroppo è una cosa che appunto come dici tu con alchimia è una cosa che si deve costruire con certe dinamiche ma sono convinto che possa arrivare il messicano Mahul ha un tipo di gioco particolare è un giocatore rapido veloce brevilineo da gol forse non è un super lavoratore sì no lui appunto gli piace più giocare di skills cercare il gol le azioni di fatti sarà quello che farà sicuro non è un giocatore da lavoro sporco parlando di Dobbiaco naturalmente non possiamo che mandare un saluto al mitico Speedy grande amico di tutto l'hockey Egon davvero un saluto speriamo di vederci e adesso però un ultimo servizio prima di salutarti vorrei farti vedere queste immagini con una piccola una sorpresa che arrivava uno scatolone misterioso arriva allo spirito reale arena cotta morandini di torrepellice seguiamolo all'ingresso nello spogliatoio della valpe piano piano grazie massimo salvai eccoci siamo arrivati permesso vediamo la reazione dei ragazzi svelato l'arcano sono le nuove maglie stampate da un'azienda rusernese chilometro zero o quasi d'altro canto sono maglie profondamente legate al territorio in bella evidenza oltre agli sponsor ci sono le montagne richiamate in rosso e in nero sulla diviso tutta bianca l'idea è stata della grafica Francesca Pavese che è anche mamma di un ragazzo della giovanile qui la vediamo al Valpedei di presentazione della stagione lei è già autrice della maglie dell'anno scorso ecco la prima prova da parte degli atleti il nome non è quello giusto vabbè ma ciò che conta è la vestibilità e la misura Tommaso Salvai e Andrea Basraui si prestano come modelli primo colpo d'occhio cosa ne pensate? il main sponsor spirito reale neonata azienda di liquori di Torino è in bella evidenza sul petto la società è grata a tutte le realtà che hanno voluto essere presenti sulla nuova casacca la nuova divisa ha esordito nella sfida casalinga contro il Como vinta per 4 a 1 speriamo sia di buon auspicio per una stagione che si prospetta difficile ma vincente ecco qua abbiamo visto l'ingresso delle nuove maglie in spogliatoio sei prestata come modello anche perché comunque la maglia del portiere è un po' più grande delle altre perché le protezioni sono ovviamente più diverse è decisamente più grande sembriamo quasi degli oversize molto difatti ogni tanto mi capita di metterla senza nulla tra degli eventi e sembro veramente un badone ci balli dentro quanto tempo ci metti a vestirti? a vestirmi quando ero piccolo ho tanto tempo difatti ero lento lento adesso in 10 minuti e le protezioni perché abbiamo visto nelle immagini in precedenza ci sono dei paraspalle dei paraschiena la pettorina la contiglia insomma raccontaci un po' quali sono di cosa si compone l'attrezzatura che non vediamo perché naturalmente vediamo la pinza vediamo il biscotto vediamo i gambali però sotto la maglia era un po' che non sentiva un biscotto è un bel terreno vabbè sono vecchia vabbè ricordate quando ero piccolo naturalmente pettorina che è immensa paracollo prepara gioielli di famiglia ginocchiere tutte pattini ma abbastanza robe solite simili a quelle dei giocatori sono molto più grandi e più protettive anche se non proteggono sempre così tanto come dovrebbero proteggere portiere ha sempre ovviamente la griglia è proibito o proprio una questione di gusti personali non avere invece una visiera no no è proprio proibito la cosa con la quantità di tiri che prenderemmo sarebbe sempre rovinata certo si rovinerebbe ovviamente non c'è più da qualche stagione la regola che se il disco colpisce la testa del portiere si interrompe subito è a discrezione dell'arbitro però comunque l'arbitro riesce a capire se è soltanto una deviazione senza conseguenze oppure se può essere un momento di no è successo che il disco ti colpisse e tu in qualche modo ti aspettavi che l'arbitro fermasse il gioco si ad esempio l'altra sera contro il com è successo un paio di volte che mi hanno colpito in testa in due occasioni se sei tolto il casco purtroppo succede in un'occasione non mi faceva strano perché mi sei proprio tolto il casco e lui non fischia però ho pensato che fosse ancora riva l'azione che era una nuova regola che era stata introdotta invece è solo che non se ne era accorto perché appunto non sai mai bene se sia gioco vivo oppure se sia fermo quindi provi molto spesso vediamo i portieri alzarsi la maschera e dissetarsi quanto in quel gesto c'è vera sete e quanto è una modalità per concentrarsi ma è un po' un buon mix di entrambe le cose io lo faccio sempre per tenermi idratato perché comunque in una partita per una quantità di liquidi che è incredibile quindi cerco sempre di tenermi idratato costantemente poco alla volta senza esagerare a botte d'acqua se no poi mi sento solo appesantito è un sicuro aiuto anche a essere nel mood nella tua zona nella borraccia c'è acqua che sono integratori sì sì no c'è acqua nella mia poi c'è chi ha le sue preferenze però tu preferisci acqua sì sì acqua perfetto benissimo è stato un vero piacere Bas averti con noi parlare così liberamente io spero che questi piccoli approfondimenti vi piacciono naturalmente non l'abbiamo mai detto ma se avete delle domande potete avanzarle nei commenti della pagina YouTube del canale YouTube del Valpellice Bulldogs e magari riproporremo nelle prossime interviste queste domande da parte vostra bene Bas è stato un grande piacere in bocca al lupo è sabato 21 ore 20 e 30 Spirito Reale Arena con Tamora di Torre Pellice contro il Dobbiaco cosa facciamo? dobbiamo vincere mi aspettiamo che a loro vi sarà una bella notte grazie mille abbiamo salutato Andrea Bas Basrawi che è stato nostro ospite nella prima parte della trasmissione e ora andiamo a commentare quelli che sono stati gli altri risultati di questa settimana con le altre categorie vediamo della IHL l'abbiamo detto passiamo dunque alla Division 1 che è stata sconfitta in casa dal Pinè 2 a 4 al termine comunque di una buona partita ne parleremo tra poco l'Under 19 poco fa nella partita pomeridiana della domenica ha fatto una bella figura sul ghiaccio del Caldaro Renon perdendo solo 3 a 2 alla fine negli ultimi minuti con una rete in power play di Clericuzio in precedenza la Valpe si era portata addirittura sul 2 a 1 trovando le marcature con Leonardo Sibille e Mattia Gai comunque bravi bravi ragazzi caduta anche l'Under 16 nella gara di ieri contro l'FM Fassa per 7 reti a 4 e infine la risarie a mercoledì 11 per la sfida di Madesimo con cui la Chiavennese ha superato il Valpellece Bulldogs Under 14 alla sua prima sconfitta stagionale le partite del prossimo turno della IHL di Valpe Dobbiaco abbiamo già detto più volte la Division 1 il Valpellece Bulldogs Spirito Reale la seconda squadra senior sabato 21 alle 19.30 reca visita al Cadore nel Bellunese l'Under 19 due gare casalinghe mercoledì 18 ottobre alle 17.30 contro il Pergine domenica 22 alle 17.30 contro la mista Cortina Alleghe Under 16 anch'essa impegnata in casa alla Spirito Reale Arena Cotta Morandini sabato 21 alle 16.30 contro il Pergine trasferta infine per l'Under 14 che domenica 22 alle 13 è attesa a Varese la formazione di Roberto Martina quella che disputa il campionato di IHL Division 1 e quindi è andata vicina a fare un buon risultato contro il Pinè campione in carica e abbiamo anche qualche immagine la vediamo con un'intervista a uno dei protagonisti è più grande il rammarico per essere ancora zero punti in classifica oppure la soddisfazione per aver espresso un buon hockey contro i campioni in carica del Pinè vittoriosi a Torrepellice ma solo per 2 a 4 in rimonta difficile dire certo ora bisogna mettere a frutto il lavoro svolto e muovere la classifica magari in occasione della lunga trasferta di sabato 21 in Cadore sentiamo Jacopo Rostan autore di un gol come Matteo Bellora una bellissima prestazione contro una squadra forte sì sono d'accordo abbiamo ottenuto comunque con i numeri che avevamo la prima partita in questa abbiamo quattro linee nelle scorse comunque eravamo tre o meno e abbiamo giocato tutti molto bene manca come sempre un po' di esperienza per tutti abbiamo fatto delle buone azioni abbiamo tirato anche molto bene il problema forse può essere stato che non abbiamo sfruttato abbastanza il power play dato che non l'abbiamo ancora allenato molto ma siamo ancora inizio stagione secondo me è un buon risultato per adesso in ogni caso il problema del gol è un problema che è comune anche alla squadra di HL cosa si può fare secondo te per migliorare da questo punto di vista? la cosa che si può fare è allenarsi come dice il coach grossi tutti i giorni al palazzetto e soprattutto tirare per far i gol l'unica cosa che si può dire è questa a volte cerchiamo dei gol troppo difficili sì forse alcune volte cerchiamo più reazioni che fanno e vediamo in NHL piuttosto che magari tirare per il rimbalzo oppure un semplice passaggio che può portare il vantaggio alla squadra oppure banalmente alzare la testa per un tiro più bello o un passaggio migliore congratulazioni e speriamo che la prossima volta oltre le congratulazioni festeggiamo dei punti perché ve li meritiamo grazie mille grazie a Jacopo Rostan un campionato comunque sempre più interessante sempre più impegnativo per quanto il Valpellice e Bulldox spiritoriale sia ancora a zero punti ma sta facendo sicuramente dei progressi sarà molto interessante vedere i prossimi incontri in attesa naturalmente della partita delle partite perché ovviamente per ogni squadra quello sarà l'obiettivo stagionale ovvero provare a mettere in difficoltà e a fermare la favoritissima del campionato ovvero l'Ares Sport formazione austana che si è rinforzato ulteriormente con l'arrivo di Franchini dal Merano oltre alla squadra di Serie C e alle formazioni giovanili dei Bulldox che non stanno avendo tutti i risultati che si sperava ma che comunque stanno crescendo partita dopo partita c'è tempo per migliorare e per ottenere anche dei risultati con una continuità maggiore rispetto a quanto è avvenuto fino a questo momento e oggi domenica abbiamo visto alla Spirito Reale Arena Cotta Morandini anche un'altra formazione la formazione femminile delle Piemont Rebel che sono state protagoniste sul ghiaccio di Torre Pellice vediamo qualche qualche immagine possiamo proprio affermare che l'aria di Torre Pellice abbia fatto bene alle Rebel infatti nel match di esordio nella Serie A femminile del 23-24 le ragazze allenate da Sdenek Pudrna ci sono imposte 5-2 sul Trentino Women rifletta della sedicenne pinerolese Federica Boaglio in gol anche l'esperta Elena Ballardini e la talentuosa Sharn Roccella ecco le girls festeggiate dopo la bella prestazione le rivedremo le rivedremo la prossima domenica per chi ha piacere di applaudire le Rebel nel campionato di Serie A ovviamente l'unico campionato organizzato dalla federazione è un campionato interessante con diverse rivali le Rebel appunto hanno affrontato quest'oggi la formazione del Trentino Women mentre altra avversaria dell'Est Italia ovvero domenica 22 alle 12.30 sempre sul ghiaccio di Torre Pellice e possiamo ammirare contro l'Eurospar Lakers la formazione di Egna se non vado errato bene andiamo alla conclusione ma non prima di un servizio a cui sono particolarmente legato una persona che va ricordata assolutamente per tutto quello che ho fatto tantissimo e per tutto quello che è stata è una persona che amava anche l'hockey femminile è stata forse la penna numero uno nella promozione dell'hockey femminile in Italia ha pubblicato anche un libro sulle giardatire rosa però poi tutti lo ricordiamo come il cantore della Valpe vediamo ma non restò la squadra senza guida che c'era una persona saggia e fida il buon Deusebio cui non so perché ha messo il soprannome di Patè e questi ha fatto appieno il suo dovere pur se le stelle ahimè doveva vedere per un banale semplice noioso torcicollò parecchio doloroso con testa eretta con lo sguardo fiso la bocca sempre pronta ad un sorriso con ogni movimento misurato per un mister inglese fu scambiato così il grande minor al secolo Franco Pasquet chiamava mettere in versi i fatti e i personaggi della nostra terra definiva Mauro Deusebio il cantore della valle intento ad escrivere il cantore della Valpe fantastico negli oltre i 60 anni in cui si è occupato di occhi su ghiaccio Deusebio è stato molto più di un giornalista ha dato forma e colore all'anima del movimento miscelando leggerezza arguzia capacità critica poesia cultura e passione non sono mai stato un giocatore di hockey scrisse nel primo libro sulla Valpe uscito nel 1997 ho portato fasci di mazze tracciato la pista dato i cambi litigato con arbitri giocatori e pubblico avversari ho messo nastro su parastinchi e bastoni l'ho usato per mettere un numero ad una maglia che ne era priva per segnalare il capitano e gli assistenti per tenere insieme borsoni sfatti dalla fatica di tante trasferte per impacchettare qualche burba prima del rito di iniziazione ho curato anime deluse o ubriache sopracciglia frastagliate pubbliche relazioni acquisti umani e materiali ho fatto il marcatore ufficiale lo speaker l'infermiere il confessore di talenti sottovalutati e di donne abbandonate la fila pattini il cronometrista il tale scout il tifoso il dirigente responsabile il segretario e l'addetto stampa ma il giocatore mai certo Mauro Deusebio è stato anche molto altro al di fuori dell'hockey marito amico insegnante scrittore amministratore pubblico persone impegnate in politica giocatore di bridge ma di hockey in questa trasmissione parliamo e lo facciamo grazie a lui perché senza Patè non ti sarebbe la Valpe almeno come oggi la conosciamo ci ha lasciato un anno fa il 13 ottobre 2022 repentinamente e con la dignità di un mister inglese volle scrivere su facebook l'ultimo post di commento sui suoi amati ragazzi del Valpellice Bulldogs che seguiva con stima e affetto anche se la vista non l'aiutava più a valutarne i progressi eppure li percepiva con tutti gli altri sensi aveva tanti amici e ben due nipoti in squadra ma tutti noi ci sentiamo un po' suoi figli lo ricordiamo con grande riconoscenza e ci piace guardare ancora e ancora questo video messaggio che aveva inviato i ragazzi in occasione della prima finale conquistata bravissimi ragazzi e bravo anche Dino siete riusciti a entusiasmare tanta gente anche uno che ormai vede solo più dove hai bisogno sempre del replay forza Valpe hasta la vittoria sempre Mauro De Eusebio un amico un maestro tante tantissime cose a favore dell'hockey e a favore della Valpe un ricordo doveroso e un ricordo pieno di affetto e di stima e di riconoscenza siamo alla fine la domenica bianco-rossa finisce qui vi saluto con grande calore vi do l'appuntamento alla prossima settimana sperando di poter commentare qualcosa di bello fatto dai ragazzi contro il dobbiaco e sperando anche magari di avere qualche servizio per farvi capire qualche aspetto in più di questo meraviglioso mondo che è il mondo della Valpe un mondo di cui siete protagonisti un mondo che potete contribuire a plasmare con la vostra passione venite allo stadio venite a vedere le giovanili venite a vedere la serie C venite a vedere l'IHL a grande bisogno del vostro sostegno e c'è anche la possibilità naturalmente se si ricrea un certo movimento di poter magari con grande cautela fare qualche piccolo investimento per poter migliorare quindi ragazzi mi raccomando venite questa è casa vostra venite qui forza Valpe